Credimi, la mia segreta speranza era quella che ti abbinassero a lui. E hai avuto fortuna. Fortuna, dici? Sarei proprio curioso di capire come tu sia giunto a una conclusione del genere. Perché secondo me basta già il titolo di Caillou a rappresentare una gravissima minaccia. Se poi è esperto della mano velenosa... Io scommetto tutto sul tuo ritorno, ragazzo mio. Il mio corpo mi suggerisce che devo distruggerti.